Un inverno secco, quello appena trascorso, dove nel territorio nazionale ha registrato un terzo in meno di pioggia e temperature alte rispetto agli anni passati. A preoccupare è dunque la mancanza di acqua e la siccità che sta mettendo a dura prova le campagne e le prossime coltivazioni. Ma qual è la situazione nel nostro territorio provinciale e regionale? Nei mesi di gennaio e febbraio sono state solamente sette le giornate di pioggia registrate. La situazione continua a essere drammatica perché di fatto da una media degli anni passati, una media storica di piovosità di 17 giorni, qui siamo in un periodo di pioggia veramente basso. Ma la cosa più drammatica è che la quantità di pioggia in questi giorni è stata veramente bassa. Di fatti dalle stime fatte da Assam e Coldiretti degli ultimi dieci anni siamo su un 55% di pioggia in meno sulla zona appenninica, un 45% di pioggia in meno sulla zona collinare e in pianura siamo su un 53% di pioggia in meno. È un campanello d'allarme quello che ci apprestiamo ad incontrare soprattutto con l'arrivo dell'estate. Si può parlare di allarme rosso per il nostro territorio, per il territorio italiano. Vediamo che il po' è quasi asciutto. Quindi la situazione va ragionata in maniera diversa, va fatto un qualcosa di preventivo per evitare queste situazioni che ormai sono costanti. Quali potrebbero essere gli scenari per quest'estate? Se va avanti così la situazione sarà drammatica per l'estate perché dalle piante erbacee come il grano che già ne risente alle semine che stiamo facendo adesso con mais, girasole, ma fino alle piante orticole ma anche alle piante erbore, è chiaro che già vediamo dei sintomi di stress idrico. Quindi ad agosto, se la situazione continuerà così, avremo dei fortissimi cali di produzione. Intanto nei prossimi giorni è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con una nuova perturbazione con forti piogge. Sicuramente potrebbe aiutare anche in vista delle semine privali verili la pioggia che è stata prevista però è chiaro che manca comunque sia già un fondo di pioggia che è data dalle piogge dell'inverno quindi già siamo decisamente in scarsità idrica e in siccità abbondante. Tra le soluzioni, sottolinea Coldiretti, c'è quello di creare una rete di piccoli invasi d'acqua naturali. Bisogna lavorare su formule assicurative, bisogna far sì che il reddito delle imprese si possa mantenere perché altrimenti le imprese che vivono sotto il cielo stellato rischiano in maniera doppia rispetto alle altre imprese di altri settori. E bisogna lavorare in maniera preventiva per veramente cercare con i fondi del PNRR di creare degli invasi per rendere questi terreni della nostra provincia, della nostra regione ma di tutta Italia in rigui, quindi con canaline, con vasi invasi, pulire gli invasi che abbiamo come la diga di Mercatale che di fatto ha bisogno di lavorazione per aumentare la capacità di cooptare acqua e utilizzare questa acqua anche per il bene prezioso che è l'energia alternativa perché grazie agli invasi si possono creare, grazie ai finanziamenti del PNRR con le fonti rinnovabili dell'energia idroelettrica, delle soluzioni anche per il territorio dal punto di vista energetico.